Ciao a tutti, quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere, Bertolt Brecht, in ricordo del 25 aprile, dell'anniversario della liberazione. Allora, questa frase che è in ricordo, diciamo, e in onore dei ragazzi del 1945 che in qualche modo hanno riportato la libertà in Italia e hanno fatto in modo, diciamo, anche che l'Italia non venisse penalizzata, perché ricordiamocelo sempre, qualcuno diceva vabbè ma i partigiani da soli non sarebbero riusciti, però questa resistenza in Italia ha fatto sì che poi nel gioco dei vinti e degli sconfitti l'Italia non fosse penalizzata più di tanto, al di là di questo, però è fondamentale rendersi conto di questo, che la resistenza nasce dal fatto che delle leggi ingiuste non sono state accettate dai cittadini e sono diventate e hanno spinto dei cittadini a ribellarsi, hanno spinto dei cittadini a resistere. E questo è un concetto fondamentale, perché la legge non è una legge divina, è una legge umana e purtroppo sappiamo bene che ci possono essere delle leggi ingiuste. Beh, basta pensare alle leggi fascistissime, ad esempio, no? che nel 1945, anzi no, sono state messe forse nel 43 mi sembra, non vorrei sbagliare adesso gli anni con la storia, però comunque le leggi fascistissime sono state veramente una vergogna per l'Italia, eppure erano leggi dello Stato, quindi è giustamente, molte persone si sono allineate e come dire, ho torto collo, hanno piegato la testa, ma invece altri hanno preso la strada dei monti ed è proprio grazie a queste persone, a questi ragazzi del 1945, di cui oggi sono rimasti in pochi, diciamo, ovviamente, visto che oramai sono passati tantissimi anni, e però qualcuno, qualche testimonianza c'è ancora, e questi ragazzi hanno portato comunque una ventata di libertà e bisogna mantenerla, bisogna far sì che lo sforzo che queste persone hanno fatto non sia uno sforzo vano. La libertà, soprattutto la libertà di espressione, è fondamentale. Mi piace molto un altro detto di Sandro Pertini, che era Io non sono d'accordo con te, non sono d'accordo con le tue idee, ma lotterò sempre affinché tu possa esprimere le tue idee con le quali io non sono d'accordo. E questo è un altro concetto, secondo me, fondamentale, perché non è tanto il fatto che uno possa essere d'accordo o meno con le idee di un altro, quanto che ognuno dovrebbe essere libero, senza essere censurato, diciamo così, di poter esprimere le proprie idee, senza ovviamente offendere nessuno, questo ovviamente è giusto. Comunque, questo video era per un omaggio ai nostri concittadini che nel 1945 e anche negli anni precedenti hanno lottato, hanno rischiato la vita, alcuni l'hanno persa per portarci la libertà. Bene, iscriviti al canale, ciao!